Tornano a salire i ricoveri covid all'ospedale Morelli di Sondalo. Un mese fa erano una trentina, ad oggi sono 47 ed è stato necessario attivare un nuovo reparto al terzo piano del primo padiglione per accogliere i malati in via di guarigione. A necessitare di cure intensive, addirittura del casco per respirare in alcuni casi, sono in particolare le persone fragili. Ieri è stato attivato un reparto al terzo piano del primo padiglione che accoglie i pazienti che dopo aver superato la fase acuta della malattia sono in via di guarigione ma non ancora autonomi per essere rimandati a casa. L'ospedale Morelli sta offrendo una risposta efficace ai bisogni di cura dei malati covid-19 anche in questa fase, sottolinea il direttore generale di ASS Tito Maso Saporito. Dopo le festività pasquali abbiamo accolto anziani e persone fragili contagiati che hanno sviluppato la malattia in forma grave. Dal 15 aprile scorso i ricoveri sono stati complessivamente 76, più di 5 al giorno. Da ottobre 2021 i pazienti sono tutti residenti in provincia di Sondrio con l'eccezione di qualche turista risultato positivo che come è sempre avvenuto viene curato al Morelli. Nel mese di aprile si sono registrati 6 decessi, uno ieri. Ci sono problematiche, prosegue il direttore Saporito, che stiamo affrontando una ad una nell'interesse dei cittadini. Con la collaborazione della Regione siamo impegnati per trovare le migliori soluzioni possibili alla carenza di personale e al recupero delle liste di attesa. Dopo due anni di covid-19, durante i quali la struttura e il personale del Morelli, con l'affiancamento dei colleghi provenienti dagli altri presidi della provincia, hanno fornito una prova straordinaria, stiamo riorganizzando l'attività ospedaliera e ambulatoriale, non senza qualche difficoltà.